Immagina un frate cappuccino, conosciuto in tutto il mondo per i suoi miracoli e la sua profonda spiritualità. Questo è Padre Pio, una figura che ha affascinato milioni di persone con la sua straordinaria vita. Padre Pio, nei primi anni del suo ministero, percorreva ogni giorno le scale del convento, spesso accompagnato dai confratelli. La sua fama si diffuse rapidamente, attirando migliaia di devoti e numerosi sacerdoti desiderosi di incontrarlo. Uno dei primi visitatori era un gruppo di sacerdoti francesi, guidati dall'abate Benoît. Giunti con l'intento di parlare con Padre Pio, parteciparono alla sua messa. L'abate Benoît aveva un problema urgente che voleva discutere con il frate, Ma all'inizio, il suo impatto con Padre Pio non fu dei migliori. Stranamente, durante l'incontro, l'abate dimenticò completamente il motivo della sua visita. Fu solo al momento del congedo, quando Padre Pio prese il breviario e scrisse qualcosa su una pagina bianca, che accadde il vero miracolo. Sulla via del ritorno, l'abate Benoît aprì il breviario e lesse le parole di Padre Pio. Con stupore, si rese conto che il frate aveva scritto la risposta al problema che aveva dimenticato. Questo gesto rivelò il dono straordinario di Padre Pio, la capacità di leggere nel cuore e nella mente delle persone. Questo episodio cambiò per sempre la percezione che l'abate Benoît aveva di Padre Pio, confermando la sua santità e il suo potere miracoloso. Una storia che continua a ispirare e a meravigliare chiunque la ascolti. Padre Pio, un uomo semplice con un dono divino, ci ricorda che i miracoli possono accadere in modi inaspettati e straordinari. E' importante capire che Padre Pio non era solo un frate con doni mistici, ma anche un uomo di grande umanità e compassione. Ogni giorno, egli accoglieva con amore e pazienza le migliaia di persone che venivano da lui in cerca di conforto, speranza e guarigione. Le sue giornate erano lunghe e faticose, segnate da ore di confessioni, preghiere e celebrazioni eucaristiche. Eppure, nonostante la fatica e le sofferenze personali, Padre Pio non cessava mai di dedicarsi agli altri. La sua vita era una testimonianza vivente di fede e abbandono totale alla volontà divina. Padre Pio non cercava la fama, ma il suo esempio di vita attirava naturalmente chiunque avesse bisogno di un miracolo. Egli era noto non solo per le guarigioni fisiche, ma anche per i miracoli spirituali, che trasformavano profondamente le anime che incontrava. Un altro episodio significativo della sua vita riguarda una donna disperata, venuta da lontano per chiedere la sua intercessione. Era afflitta da una malattia incurabile e i medici l'avevano ormai data per spacciata. Padre Pio la accolse con dolcezza, le impose le mani e pregò intensamente per lei. Poco dopo, la donna tornò dai medici e con loro grande sorpresa risultò completamente guarita. Questo evento, come molti altri, rafforzò la fede di chi lo conobbe e contribuì a diffondere la sua fama di santo. Padre Pio C insegna che la vera forza risiede nella fede incrollabile e nell'amore per il prossimo. La sua vita, dedicata interamente al servizio di Dio e degli uomini, rimane un esempio luminoso di santità e umanità. Ancora oggi, milioni di persone si rivolgono a Lui in preghiera, cercando conforto e miracoli e trovano nella sua figura una fonte inesauribile di speranza e ispirazione. Padre Pio, con il suo sorriso pacato e la sua presenza rassicurante, continua a vivere nel cuore di chi crede nei miracoli e nella potenza della preghiera. La sua eredità spirituale è un faro che illumina il cammino di chi cerca la verità e la pace interiore, ricordandoci che, con la fede, nulla è impossibile. Grazie per la visione. Commenta con Amen e condividi questo video.